Cosa sono le interstiziopatie polmonari? Qual è il loro nesso con l'artrite reumatoide e soprattutto quali sono i farmaci che si possono utilizzare per curare l'artrite reumatoide che non peggiorano l'interstiziopatia polmonare? Ne abbiamo parlato con un vero esperto, col professor Marco Sebastiani che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso dell'evento Highlight 2020. Professor Sebastiani, innanzitutto una premessa, cosa sono esattamente le interstiziopatie e che cosa determinano nella qualità di vita dei pazienti che ne sono colpiti. Poi vediamo la loro relazione con l'artrite reumatoide. Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo eterogeneo di malattie che coinvolge il parenchima polmonare, cioè determina una progressiva fibrosi del polmone, quindi una minore elasticità del polmone stesso che può compromettere nel tempo gli scambi respiratori con l'esterno, cioè una maggior difficoltà a respirare da parte del paziente. L'insorgenza può essere insidiosa, possono comparire con tosse o con difficoltà a respiro per sforzi intensi e progredire molto lentamente nel tempo. Possono interessare, fortunatamente sono malattie rare, ma possono interessare tutta la popolazione, nelle malattie reumatiche c'è una particolare frequenza di complicanze a livello respiratorio di questo tipo. Ecco, la ragione di questo nesso causale la si conosce? La ragione purtroppo non la si conosce esattamente, ci sono alcune associazioni genetiche che combasciano anche con quello che si osserva ad esempio la fibrosi polmonare idiopatica, ma nella maggior parte dei casi non è possibile trovare un'associazione diretta tra la patogenesi dell'artrite reumatoide e delle altre malattie reumatiche e l'interstiziopatia polmonare. Siete su circa 350.000 italiani colpiti da artrite reumatoide, quanti hanno sviluppato un'interstiziopatia polmonare? Una forma clinicamente significativa di interstiziopatia polmonare coinvolge almeno il 5-10% dei pazienti con artrite reumatoide, ma se noi andiamo a studiare tramite TAC del torace tutti i pazienti troviamo un riscontro di interstiziopatia di almeno il 20%. Il tema della sua relazione non è stata la terapia dell'interstiziopatia polmonare, lei si è focalizzato invece sull'utilizzo dei farmaci per l'artrite reumatoide e sull'effetto positivo o negativo che possono avere invece anche sull'interstiziopatia polmonare. Ecco, ci spieghi un po' la situazione qual è. Sì, il vero problema nel trattamento dei pazienti con interstiziopatia polmonare in artrite reumatoide è che molti farmaci che noi utilizziamo comunemente per l'artrite reumatoide possono almeno in teoria peggiorare il quadro respiratorio. Questo è prima fra tutti storicamente il metotrexata, anche se i dati non sembrano poi essere così solidi, e gli inibitori del TNF-alfa, che sono stati i primi farmaci biologici utilizzati che possono apparentemente determinare un peggioramento del quadro respiratorio, per cui bisogna monitorare strettamente questo tipo di pazienti e valutarli nel caso in cui possa comparire una complicanza respiratoria. La modalità più semplice per valutare i pazienti è quella di auscultarli, cioè l'auscultazione del torace ci permette di identificare dei piccoli suoni, che si chiamano rantoli a velcro, che possono essere indice di interstiziopatia. Questi pazienti andranno poi sottoposti a TC del torace. A velcro perché? A velcro perché ricordano il rumore dello strappo del velcro, oppure il rumore dei capelli vicino all'orecchio, quando si strofinano. In questi pazienti poi esistono alcuni farmaci, alcune classi di farmaci, che sembrano essere più sicuri in questi pazienti. Il nostro obiettivo purtroppo non è al momento di trattare l'interstiziopatia polmonare, ma trattare l'artrite aromatoide, cercando di non compromettere il quadro respiratorio e non interferire con l'evoluzione del quadro respiratorio. Professore, per fortuna ci sono dei farmaci che si utilizzano per l'artrite aromatoide e che sono invece sicuri per quanto concerne quella quota di pazienti che ha l'interstiziopatia polmonare. Quali sono questi farmaci? Al momento i farmaci per i quali la letteratura sembra offrire maggior dati di sicurezza in questo senso sono in particolare abatasepte, tofacitinib e in minor misura tocilizma, per i quali ci sono meno evidenze scientifiche. Ecco, il tema dell'incontro di oggi qui a Milano è proprio, diciamo così, l'approfondimento sui giacchi inibitori, in particolare sul tofacitinib, che è il capostipite di questa classe. Ecco, lei ha accennato che sembra essere sicuro per quanto riguarda l'impatto polmonare. Ecco, ci dice qualcosa di più? Beh, i dati di letteratura su tofacitinib che è in commercio ormai nel resto del mondo da almeno 10 anni sembrano non evidenziare alcun peggioramento del quadro respiratorio, alcun ruolo del farmaco nel comparso nel peggioramento dell'interstiziopatia polmonare. Senta, visto che lei è un esperto in particolare di questi temi, ecco che consigli, che suggerimenti possiamo dare appunto agli altri reumatologi, a coloro che appunto magari operano sul territorio, per quanto accenne proprio il tema dell'interstiziopatia polmonare, in chi ha l'artrite reumatoide? È sempre corretto associare all'esame obiettivo articolare una corretta anamnesi del quadro respiratorio, auscultare i pazienti a tutte le visite e se possibile riuscire a gestire i pazienti con interstiziopatia polmonare insieme allo pneumologo, in modo da associare le competenze dei due specialisti.